secondo te perché sono andata a recuperarlo un giacchettino uguale al nostro siamo noi che ce l'abbiamo come il tuo è tutto usato come funziona tu quando passi al adesso prima di entrare dobbiamo entrare nella griglia e vedi che c'è uno con la pistola che ti prende il numero io sono un paesanno del giacomino a lui non si può dire di no bravo bimbo ciao un giorno grazie non grazie 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 ciao 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 Ah no, aspetta, devo mettere il guanto di sfida Sorridere da Beatrice 1, 2, 3 E va bene! Allora, vi confermate che sta partendo del caso Dove ricordiamo felicissimo vinte Siamo pronti a partire Però metti la musica per sentire i commenti come l'altra volta Ciao, stiamo per morire La cosa più bella è quella Ah, dal burrone! Capito? Dal burlone! Allora, è deciso poi di partire da no Dai, che sta tremando Questa è collegata a questa Siamo molto stanza Alcuni treni come la prima donna di transita La prima donna di transita La prima donna di transita Numerose in subreddita Maurizio diceva Fa riscaldamento Eravamo già dentro Questa è una coperta La prima donna di transita E' una coperta 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 guarda che gioco avevamo sempre rete per notare il montegnino va da ossa quando ancora non invitiamo nessuna attiva non c'è vedo Dio mi sento che caffè è stato lì è stato lì che poi era proprio serio avete tutto il rubolano per scatenarvi ormai si è dovuto mangiare il bambino è già andato a fare quella vita è stato il primo è vero con i nuovi che ce l'accia e fa il qui l'accia ecco 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.